Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, sono Yassi e oggi sono qua come avrete letto dal titolo per mostrarvi tutti i budget trasferimenti dei top campionati a partire ovviamente dalla serie A, vi porterò anche la serie B, la Liga, la Premier League, la Ligan, la Bundesliga, prima di iniziare arriviamo 2000 mi piace e vi porto i consueti video anche con i migliori giovani talenti, migliori talenti economici, se volete vi porto quest'anno vi riporto anche il video sui migliori svincolati e poi vi porterò anche i video con le migliori squadre da utilizzare. la carriera ovviamente le devo ancora fare tutti questi video però iscrivetevi alla campanellina in modo che quando escano non ve li perderete soprattutto non vi perderete anche la carriera con il Milan che è iniziato oggi pomeriggio, è uscito il primo episodio, domani uscirà il prossimo episodio, seguitemi anche sul secondo canale dove lì farò la carriera giocatore, il primo episodio uscirà prestissimo e poi anche lì vi porterò tanti tanti episodi con quella serie. direi di partire subito, partiamo ovviamente con l'Italia dalla serie A dove partiamo purtroppo con il Bergamo Calcio, ancora non ci sono le licenze per l'Atalanta e per altre squadre, la Roma, il Napoli e la Lazio, 4 top club tra i top 7 della serie A quindi è un po' un peccato anche per la carriera in serie A, per chi magari vuole fare delle carriere con queste squadre, ovviamente i giocatori come al solito sono sempre quelli reali quindi comunque non è un grossissimo problema però il nome e soprattutto le maglie sono veramente oscene. Atalanta che ha un budget di 44 milioni, forse per questo video è meglio che mi metta sopra, 44 milioni che per l'Atalanta non sono male e vedrete che tutti i budget sono livellati verso l'alto come per esempio anche il Bologna che ha 23 milioni perché anche i prezzi dei giocatori, ho notato anche i budget stipendi, sarà più importante averlo perché gli stipendi sono stati alzati, sono più realistici con le cifre che girano attualmente e quindi insomma è tutto livellato verso l'alto. Quindi vedete dei budget più importanti anche per esempio per il Cagliari ne ho promossa che ha ben 16 milioni, ovviamente faccio questo video anche così quando volete iniziare una carriera almeno avete un'idea sui vari budget e secondo me può essere una cosa utile, 44 milioni per la Fiorentina con anche la Conference tanta roba, Frosinone budget veramente basso ma è realistico perché alla fine hanno preso solo i giocatori impresso eccetera, Frosinone tosta con 7 milioni, il Genoa 17 milioni anche lei tanta roba per essere una neopromossa, l'Ellas 18 milioni più o meno al livello delle neopromosse, l'Inter ha quasi 100 milioni, budget veramente veramente mastodontico, c'è la Juve ovviamente dall'anno scorso è tornata con le licenze veramente bella da vedere, 152 milioni assolutamente la squadra con più budget della Serie A, la Lazio senza licenze ha ben 45 milioni con la Champions League, il Lecce ne ha 11 quindi meno delle neopromosse, la seconda squadra col peggior budget oltre al Frosinone, il Milan 87 milioni vi ricordo nelle schede vi lascio la carriera, è uscito il primo episodio, uscirà ogni giorno un episodio della carriera con il Milan, 25 milioni quasi 26 per il Monza, non me l'aspettavo veramente budget interessante, il Monza secondo me è una delle migliori squadre per una carriera in Serie A, il Napoli campione d'Italia, meno budget delle top 3 che abbiamo visto finora, un po' meno anche del Milan, 66 milioni, però ci sono un paio di giocatori che se vendete potete farvi un sacco di soldi, ha più soldi addirittura la Roma, strano, non me l'aspettavo, cioè mi aspettavo la Roma meno del Napoli, salinità ha 17 milioni, sa solo veramente un cazzo, cioè c'ha meno soldi del Genoa e del Cagliari, 14 milioni e mezzo sono veramente pochissimi, il Torino ha un bel budget, anche il Torino bella squadra da ricostruire, ne ha bisogno, l'Udinese quest'anno è una squadra super interessante soprattutto per il fatto che come vedete c'è l'Udinese Arena, c'è lo stadio dell'Udinese, quindi fare una carriera con l'Udinese secondo me quest'anno è veramente top perché lo stadio l'ho visto anche fatto veramente da Dio, il budget non è altissimo, siccome è una squadra comunque con un bel progetto da portare avanti. Quindi andiamo con la Serie B, Serie B che è stata confermata quest'anno, non era scontato, l'Ascoli ha 5 milioni, il Bari ne ha quasi 9, bella squadra il Bari l'anno scorso ci faceva carriera, questo è l'Ecco che non ha ancora le licenze, Borgo Calcio spero che verrà inserita con un aggiornamento di questi giorni secondo me per il fatto del casino che è successo in Serie B all'ultimo le devono ancora aggiungere, il Bisigonza e il Brescia che l'anno scorso c'era il Bisigonza quindi verrà secondo me aggiornato per dire infatti il Catanzaro che è nuova c'è, Catanzaro molto molto interessante, Cittadella nuovo logo, Como quasi 6 milioni in realtà è una delle squadre più ricche potenzialmente della Serie B, almeno il proprietario è ricchissimo, Cosenza 3 milioni, vedete comunque i budget sono i soliti della Serie B, non vedo un innalzamento della Serie B, più della Serie A, Palermo una delle migliori sicuramente da portare dalla Serie B a quasi 10 milioni, il Parma ne ha 14, anche lei abbastanza da rifondare, forse senza l'abbastanza, anche il Pisa tanta roba, in realtà ci sono tante squadre che hanno budget più alti dell'anno scorso, ora che vado avanti, la Reggiana cos'è quella seconda maglia? Non so se è fighissima o se è una merda, forse direi più la seconda, però Reggiana con quasi 3 milioni, la Samp mi aspettavo più soldi, ne ha solo 8 e mezzo, però beh ci sta magari con tutti i casini che ha avuto a livello anche economico, però ora ci hanno nuovi proprietari, non lo so, Spezia con questo logo veramente osceno, ha quasi 10 milioni, su Tirol pochissima roba, Ternana anche, Venezia 7 milioni e mezzo, resta sempre fighissima come squadra da portare, maglie che amo alla follia, e abbiamo visto così la Serie A, direi di andare con la Premier League, dove passiamo da 5 milioni, 7 milioni a 142 milioni, qua vado abbastanza più veloce, li potete stoppare a vedere, Brighton tanta roba con 60 milioni, qua c'hanno tutti dei budget assurdi, io al Chelsea avrei messo 1-0 in più, avrei messo 1 miliardo e mezzo, sinceramente, Crystal Palace 50 milioni, Liverpool ha quasi 180 milioni, Luto è la squadra sicuramente più povera, secondo me è la squadra migliore da portare nella carriera in Premier League, divertentissimo, City quasi 300 milioni, non credo di aver mai visto un budget così alto, sono curioso poi di vedere il Paris Saint-Germain, ma secondo me il City ne avrà di più, United quasi a quel livello, 250 milioni praticamente, Newcastle 120 milioni, Arabia Saudita, quindi potete fare acquisti a volontà, poi Sheffield anche lei ha pochissimi soldi, Tottenham 120 e poi Wolverhampton 55, andiamo a vedere, prima la Francia, perché ripeto, sono curioso del Paris Saint-Germain, qua i budget sono più bassi della Serie A, realistico ci sta, il Paris Saint-Germain ne ha meno, 261 milioni, meno soldi del Manchester City, che a questo punto credo che sia il campionato che ha più, la squadra che ha più budget. Germania, vediamo il Bayern Monaco, Borussia 81 milioni, Bayern Monaco 120, veramente poco per essere il Bayern Monaco, però avete già una squadra veramente interessante, non so neanche se dovete fare qualcosa, Lipsia 90 milioni, me coglioni, veramente tanto, cioè più del Milan, più della Roma, cioè comunque squadre che secondo me sono pure più forti dell'Ipsia. E niente, questa è la Bundesliga, vi faccio vedere dei top club chi è che è rimasto. La Spagna, giusto, giusto, c'è il Real Madrid e il Barcellona ancora, me l'ho dimenticato, l'Atletico ne ha 88, c'è il Barcellona che ne ha 159, nonostante siano pieni di debiti, il budget comunque ci sarà sempre con il Barcellona. Le squadre della Liga sono poverissime, cioè hanno tutte budget veramente basso, quindi devo dire che la Serie A comunque a livello di budget è messa bene ed è strano perché in realtà in Serie A non si è mosso quasi nulla sul calciomercato quest'anno, se fosse stato per il Milan non si sarebbe mosso praticamente nessuno. 220 milioni per il Real Madrid, con quei soldi se fate una cale con il Real vi prendete Mbappé, vendete qualcuno, due o tre giocatorini e vi prendete Mbappé. E niente, Valencia 66, Sevilla 44, Villareal 42, queste sono le squadre alla fine anche del campionato spagnolo. E in generale vediamo il volo l'Arabia Saudita che sono curioso, la Lali 52 milioni, poi la Lilal 65 milioni, la squadra di Coulibaly, Neymar eccetera, la Latiad di Kanté e Benzema, 51 milioni, tra l'altro ci sono anche degli stadi, come vedete l'Ali, c'è il King Abdullah Sports City che è lo stesso, no, la Lilal c'è il King Fad, loro hanno lo stesso dell'altra squadra, la Latiad, l'Al Nasser di Ronaldo non ha lo stadio ma 60 milioni e le altre come vedete hanno budget bassini, El Shabab un pochettino di più, però sì, le altre squadre ragazzi sono abbastanza scarse, cioè alla fine sono quelle 4-5 squadre, il resto niente di che. Non so che altro farvi vedere perché in realtà le squadre sono queste, l'Ajax 32 milioni, Portogallo, beh non credo sia interessante. E quindi niente, direi di non dilungarmi lungo, era un video giusto, informativo, che secondo me può essere utile, non l'ho mai portato sul canale, però vediamo, mi dite poi voi se effettivamente è interessante o meno, vedrò anche se l'avrete visto o meno. Ci vediamo con la carriera con il Milan, tanti contenuti nei prossimi giorni, nei prossimi settimane, quindi iscrivetevi, avete dato la campanellina, siamo vicinissimi tra l'altro ai 100.000 iscritti, mi raccomando aiutatemi ad arrivare a questo traguardo, ci vediamo a questo punto domani con tanti nuovi video. Ciao a tutti dal vostro Yas.